buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv buona giornata oggi una giornata piacevole non è ancora molto freddo il freddo arriverà tra fine settimana comunque ancora godiamoci questo inverno ancora mite e iniziamo la giornata dando un'occhiata ai giornali passando però come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che cosa si festeggia oggi non chi si festeggia infatti si festeggia il santissimo nome di gesù e come se fosse il suo onomastico gesù vuol dire salvatore e ancora oggi il nome salvatore è molto diffuso in alcuni centri del sud italia la devozione al nome di gesù fu da prima diffusa dai francescani e molto praticata poi anche dai gesuiti san bernardino da siena inventò il trigramma ihs che vediamo qui nella nostra grafica ihs sono le prime tre lettere le prime tre lettere di la parola della parola di gesù in lingua greca ma anche l'abbreviazione di jesus hominum salvator quindi ancora si ripete la parola salvatore e allora passiamo alle previsioni del tempo anche oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino e pomeriggio forti e proverranno da sud ovest il mare però rimane poco mosso il sole sorgerà alle 7 41 tramonterà alle 16 e 40 e le temperature si alterneranno dagli 11 gradi della minima ai 15 della massima siamo ancora a valori piuttosto alti e allora cominciamo a leggere i giornali a partire dal corriere adriatico una apertura particolare questa mattina abbiamo una intervista a un personaggio che è stato alla ribalta della politica per diverso tempo in passato fino ad arrivare tra i seggi parlamentari si tratta di giancarlo zaffini uno degli esponenti della lega però finita chiusa questa parentesi si è ritirato in una casetta possiamo dire in montagna nell'appennino tra urbania insomma una zona molto molto separata a pochi passi dalla gola del furlo a 450 metri di altezza a qualagna caglie pergola insomma questa è la zona molto ampia in cui è situato questo romitaggio ebbene una casetta sperduta tra i boschi ed è interessante leggere come giancarlo zaffini parla della sua vita come mai questa scelta gli chiede l'intervistatore e gli dice dopo una vita affogata dai contatti umani e da stress ho deciso di dare un taglio netto non voglio tornare alla politica assolutamente anche perché e qui c'è anche un moto d'orgoglio dice zaffini perché non c'è nessun partito che mi meriti e beh e comunque comunque è interessante leggere questa intervista per capire la scelta che è stata fatta una scelta che non è esente da disagi la vita nel bosco è anche l'imprevisto di incontrare la vipera sul moretto di casa ha detto zaffini lo scorpione nel letto o lululato a meno di 300 metri da casa di un branco di sei lupi e in una notte di luna piena ma pensiamo anche all'acqua potabile che arriva solo da una sorgente perenne e delle nevicate frequenti ed abbondanti che spesso anche hanno isolato la casa insomma ci sono dei vantaggi per un contatto molto stretto con la natura ma la natura non sempre è così tranquilla così benigna come vorrebbe che si fosse che fosse che insomma che fosse una cosa più 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 piacevole e così non è purtroppo ebbene oggi abbiamo un ospite nella nostra scrivania è la Befana parliamo anche della Befana perché proprio ieri a Fano sono state presentate tutte le manifestazioni che l'amministrazione comunale organizza per il 6 gennaio prossimo la Befana ha pronte mille calze per bimbi in titola oggi il resto del Carlino saranno distribuite in piazza 20 settembre il 6 gennaio alle ore 19 ma prima occorrerà ritirare il tagliandino nella casetta della vecchina una fila per ritirare il tagliandino e poi divertimenti perché ci saranno spettacoli ci saranno sorprese in piazza e ci saranno poi i doni delle calze ripiene di dolciumi laboratori giochi musica e tanti spettacoli dedicati ai bambini in attesa dell'arrivo della Befana con le sue mille calze cariche di dolciumi saranno i più piccoli i protagonisti dell'incontro con la vecchina appunto il 6 gennaio prossimo per questa bellissima iniziativa organizzata in collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'afro loco di Fano alle 17 partiranno gli spettacoli allestiti sul palco centrale posizionato davanti al teatro della fortuna e poi si esibirà il mago Giancarlo ci sarà il coinvolgente white balloon per il divertimento di tutti i bambini e intorno alle 19 sarà la volta della Befana che distribuirà le calze insomma una bella iniziativa per passare speriamo che non piova anche se le previsioni non sono del tutto rassicuranti in quel pomeriggio di sabato prossimo carnevale ci siamo ma nei capannoni piove dentro la presidente Gianmarioli sono anni che invoco interventi c'erano sempre cose più importanti da fare e purtroppo quest'anno il vento che ha così scosso proprio fin dalle fondamenta questa struttura ha rovinato strutturalmente proprio i cantieri del carnevale e i carristi continuano a lavorare però in situazioni non di poco disagio azienda dei servizi alla persona smantellato un sistema di potere questa è una presa di posizione di fratelli d'italia che interviene nei confronti dell'assessore al welfare di comunità dimitri tinti insomma esponendo le sue critiche facendo le sue riflessioni e insomma dissentendo da tutte le iniziative assunte appunto da tinti stesso e qua abbiamo invece un episodio di cronaca esce di strada con la sua auto cerca di ripararla non ci riesce e si incammina a piedi scalzo lungo la statale adriatica è stato notato da una ambulanza della croce rossa che comunque non si è fermata perché non aveva bisogno di soccorso però ha informato la polizia la polizia ha raggiunto l'uomo lo ha individuato quest'ultimo quando ha visto il poliziotti è scappato non si è fermato è stato rincorso finalmente è stato raggiunto ma nel momento in cui è stato fermato l'uomo ha dato in escandescenze ha cercato di fuggire di nuovo è stato rincorso ribloccato ed è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale si tratta di un ventenne di nazionalità senegalese a cui il giudice ha inferto l'obbligo di dimora nel comune di Senigallia dove risiede e di vieto di uscire di casa dalle 22 alle 6 e 30 del mattino questo è un po' il provvedimento assunto dal giudice stesso a Mondolfo sono stati recuperati 600 mila euro dalla evasione contributiva e il sindaco li utilizzerà il sindaco di Ottalevi per pagare le rate dei mutui quindi un'entrata in più che proviene da chi non rispetta le norme del codice fiscale non solo la politica per il sindaco dell'Onti il sindaco dell'Onti è il sindaco di San Lorenzo in campo il quale ha organizzato un concerto, un mega concerto per finalità di solidarietà e anche lui si esibirà sul palco come tastierista è un provetto virtuoso tastierista il sindaco dunque note di solidarietà che vedranno sul palco sei band tutte di San Lorenzo in campo per un totale di ben 40 musicisti e sono i quattro brother, i single tone, la nuove frequenze, i calma, i gut, la castier orchestra quest'ultima formata da ben sei componenti tra i quali anche il primo cittadino dell'Onti quindi una bella iniziativa a San Lorenzo in campo vediamo a Urbino a Urbino ci sono molte statue per la città ma molte di queste vengono danneggiate alcune sono state addirittura sostituite con dei calchi dei calchi realizzati da pippi balsamini con diverse posizioni continue aggressioni alla mano per esempio di Celestino Quinto ricostruita appunto da pippi balsamini la copia della barberina non se la passa meglio e qui vediamo alcune statue che hanno avuto bisogno di interventi di restauro e poi non possiamo non parlare della Befana di Urbania una Befana che proprio a Urbania ha la sua casa una Befana in gran forma intitola oggi il resto del Carlino da oggi ci saranno un turbinio di eventi e feste l'abitazione della signora che viaggia a cavallo di una scopa è aperta tutto l'anno a Urbania ed è tutta da scoprire ebbene però la cosa più spettacolare di questi eventi sarà la discesa della Befana dall'alto campanile della Torre Civica dove le discese poi saranno ripetute dall'alto la Befana getterà dei dolciumi ai bambini che aspetteranno al di sotto domenica poi ci sarà il gran finale di questa manifestazione che ormai è nota in tutta Italia Cantiano per fortuna continua a riprendersi dopo i disastri delle alluvioni nuove prestazioni mediche in paese questo è un servizio aggiuntivo in più che sostiene la rinascita del paese l'ha comunicato con soddisfazione il sindaco Alessandro Piccini vicino alla farmacia avremo, ha detto il primo cittadino ortopedia, nutrizionista, psicologia e osteopatia una soddisfazione in più per un servizio che per un centro insomma dell'entroterra che non ha poi a portata di mano tutte le strutture sanitarie che sono sulla costa un servizio importante, anzi importantissimo vediamo anche alcune notizie che provengono da Pesaro sul resto del Carlino e non possiamo non parlare dell'inizio dell'anno di Pesaro come capitale nazionale della cultura ormai questo nome lo abbiamo detto centinaia di volte anche l'anno scorso in preparazione di tutto il programma di eventi che sarà attivato quest'anno che capitale sarà il punto interrogativo gli albergatori aspettano l'effetto Pesaro 2024 per ora si sente poco ma siamo solo agli inizi la capitale è iniziata da due giorni presenze e prenotazioni, giro d'orizzonte con gli operatori cittadini su questo articolo del resto del Carlino Nardo Filippetti dice il febbraio sarà decisivo febbraio c'è carnevale febbraio si riscalda un po' tutta l'atmosfera oliva la primavera è già andata e si aspettano tante tante prenotazioni per le manifestazioni pesaresi e ieri si è dato l'addio alla infermiera che è deceduta nel tremendo scontro che si è verificato nella galleria nella strada tra Ferminiano e Urbino dove sono morte quattro persone ciao Angelo del Soccorso ci resterà il tuo sorriso in tantissimi a Cario di Cagli ci sono presentati per dare l'ultimo saluto a Cinzia Mariotti la barra portata a spalla dai colleghi del 118 li vediamo qui in questa fotografia e c'era anche il presidente Acquaroli che ha presentato l'omaggio di tutta la regione a questa operatrice che con il suo sorriso aveva dato un pizzico di speranza in più a chi in quel momento si sentiva male e quindi insomma gli dava una forza una forza che le veniva non dall'aspetto fisico ma dall'aspetto morale ieri anche i funerali di Alberto Serfilippi il paziente di 85 anni che veniva portato all'ospedale è avvenuto nella chiesa di Sant'Antonio a Fossombrone si tratta dell'85enne che è una delle vittime del tragico schianto sotto la galleria Cagulino che è verificato il 27 dicembre scorso poco dopo Natale e ha reso ancora più triste il Natale la sfida di Enrico con la lingua dei segni racconta le antichità del Museo Oliveriano esperienza di un 27enne sordo dalla nascita figlio dell'assessore Belloni ebbene anche questo è un caso che viene posto alla ribalta dal resto del Carlino ed è interessante leggere questo articolo a questo punto chiudiamo il Carlino e diamo un'occhiata al Corriere Adriatico vediamo l'apertura dedicata ad un disservizio e ieri sembra che sia andato in tilt l'ufficio del poliambulatorio del distretto di via 4 Novembre di Fano che cosa è accaduto? è accaduto che si sono riversati nell'ufficio moltissimi dei pazienti che avevano come medico di famiglia il dottor Massimo Cecconi che purtroppo è deceduto alla fine di novembre improvvisamente questi pazienti erano stati assistiti per tutto il mese di dicembre dal gruppo dei medici di Via Vecchia di cui faceva parte anche il dottor Cecconi ma dall'inizio dell'anno avrebbero dovuto passare sotto un altro medico e quindi nella giornata di ieri prima giornata utile una folla si è riversata al poliambulatorio per fare la scelta del medico e in breve tutti i tagliandini delle prenotazioni sono andati esauriti e altre persone sono intanto continuate ad arrivare ma che cosa è accaduto? è accaduto che nel bel mezzo della mattinata il sistema informatico dell'aspetto sanitario è andato in tit si è bloccato si è bloccato e tutta la gente è rimasta in attesa con la speranza che tutto tornasse in funzione ma questo non è avvenuto e non è avvenuto fino a oltre il mezzogiorno e quindi nei pressi dell'una e quindi tutta questa gente ritornerà nell'ufficio questa mattina ho perso una giornata di lavoro hanno detto in parecchi qualcuno doveva aprire un negozio e non ha potuto farlo e non vorrà farlo nemmeno questa mattina perché poi questa folla si riverserà ugualmente nell'ufficio per fare la propria scelta ebbene un procedimento più semplice avrebbe così consigliato alle persone che sarebbero passate automaticamente senza alcuna scelta diversa al medico sostituto del dottor Cecconi senza alcuna formalità e solo coloro che dovevano fare una scelta diversa sarebbero dovute presentarsi all'ASL quindi sarebbero state meno persone e tutto quanto sarebbe svolto in maniera regolare purtroppo questo non è avvenuto folla per la scelta del medico il distretto sanitario va in tilt e questo è accaduto nella giornata di ieri ubriaco va fuoristrada poi picchia i carabinieri l'incidente in strada di mezzo un ventunenne inseguito fino in centro ebbene sono i fatti di cronaca che si sono verificati nella giornata di ieri ieri mattina in tribunale a Pesaro si è rievocato un fatto avvenuto dopo le 23 della sera di Capodanno in strada di mezzo un ventunenne residente a Senigallia italiano di origini marocchine ha avuto un incidente finendo contro un muretto e di questo ne abbiamo parlato dando un'occhiata al resto del Carlino nasce la Sala della Cultura nell'ex edificio del Tribunale è una sala che verrà inaugurata ha detto l'assessore Cora Fattori alla fine del mese di gennaio oppure all'inizio del mese di febbraio una sala importante era la sala principale di Palazzo Nolfi l'aula magna dell'università di Palazzo Nolfi fondata dalla famiglia una delle famiglie più celebre più nobili della città di Fano alla fine del 1600 poi passata appunto università dal Papa Benedetto XIII ebbene questa sala rimessa a posto efficientata dal punto di vista tecnologico sarà posta a servizio delle associazioni una sala di 100 posti che verrà appunto messa a disposizione alla fine del mese ma questa è solo una delle iniziative che viene organizzata dall'assessorato alla cultura che in quest'ultimo anno ha rimesso in moto un po' tutti i contenitori culturali della città vedi per esempio la Corte la Corte Malatestiana che si è riappropriata della sua funzione teatrale vedi la riapertura degli scavi di Sant'Agostino che ora sono disponibili alle visite nelle giornate di venerdì, sabato e domenica insomma tutte le iniziative che l'assessorato alla cultura ha svolto un consuntivo di fine anno che il Corriere Adriatico pone in evidenza per tutto quello che è stato fatto arriva la Befana in piazza per dare il là al Carnevale anche il Corriere si occupa delle iniziative del Carnevale festa per i più piccoli sabato pomeriggio il 17 cena grassa a Villa Picinetti e la cena grassa rientra un po' nel Carnevale quindi è la Befana che dà il testimone al Carnevale perché non è vero che l'Epifania tutte le feste porta via e insomma poi le feste si prolungano anche nel mese di febbraio mutui e agevolati per i giovani e tassi di interesse rinegoziati la CDA della BCC il CDA il Consiglio d'Amministrazione della BCC di Pergola e Corinaldo soddisfatto per i risultati del 2023 quattro spettacoli in scena al teatro dal fuoco a Pergola il via con la vicenda di un testimone di giustizia e ci sarà anche Cristicchi vediamo la pagina di Senigallia che ieri non c'era nei quotidiani blizza scuola del ladro spacca tutto pascoli sfregiata per pochi spiccioli ebbene siamo ancora agli episodi di vandalismo nuovo colpo rotta una finestra è scardinata la macchinetta del caffè sopra il luogo del sindaco Olivetti e Regine nuovo colpo dunque alla scuola Pasquali in centro storico per un bottino di pochi spiccioli stesso copione di quello messo a segno tra il 17 e il 18 dicembre scorso infatti ieri mattina il personale della scuola si è accorto dell'intrusione e ha subito informato il comune e come nel precedente episodio qualcuno ha rotto una finestra che si appaccia sul cortile e dopo averlo rotto è riuscito a raggiungere la maniglia per aprire la finestra e introdursi e una volta all'interno ha fatto quello che ha fatto l'episodio è documentato appunto da queste foto vi vediamo i vetri rotti vi vediamo le macchinette del caffè scardinate e qua vediamo anche gli infissi delle porte che sono stati rovinati che sono stati distrutti vediamo anche qualche notizia di Pesaro il mercatino di Natale è un villaggio cantiere noi siamo prigionieri gli ambulanti di Pesaro lamentano un viavai in interrotto di attrezzature e di tecnici per montare tutto l'apparato tecnologico che serve per le manifestazioni di Pesaro capitale nazionale della cultura e beh anche questo fa parte insomma di tutto il movimento che Pesaro poi subisce per questo evento e qui vediamo invece un articolo di cronaca raid di furti nelle casette via con i soldi della cassa e anche le casette natalizie i box che insomma danno l'atmosfera di Natale sono state oggetto di furti e di rapine una brutta sorpresa al sapore amaro della beffa e quella che della mattina il 2 gennaio è riservato a diversi ambulanti che fino a domenica prossima saranno presenti in piazza del popolo e qui le casette sono state devastate rovinate sono state violate così possiamo dire da malintenzionati che sono penetrati e hanno preso tutti i soldi che c'erano all'interno e beh anche questo fa parte della kermesse di Natale ma in maniera in maniera molto molto negativa vediamo anche un'altra notizia siamo in conclusione Cinzia sei stata un angelo del soccorso e del sorriso strage in galleria l'omelia di Don Stelvio ai funerali dell'infermiera Cinzia Mariotti un funerale a cui ha partecipato tantissima gente perché grande è stato il cordoglio per la scomparsa dei quattro delle quattro vittime di questo ennesimo incidente della strada con cui è terminato appunto il 2023 e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a domani 역